Terza pagina oggi si apre con una bella notizia per il nostro paese. Lina Wirtmuller ha ricevuto la stella sulla storica Walk of Fame di Hollywood in compagnia dei miti della storia del grande schermo. Sono onorata, ha detto la regista, ma allo stesso tempo sento la grande responsabilità di rappresentare l'Italia. E rimaniamo ancora a parlare di Italia e di grande schermo con l'arrivo al cinema del film firmato da Lorenzo Mattotti e ispirato alla famosa invasione degli orsi in Sicilia, uno dei capolavori di Dino Buzzati, scritto originariamente per intrattenere i nipoti e pubblicato poi in parte sulle pagine del Corriere della Sera prima della liberazione. La storia venne poi rivista dall'autore in seguito e pubblicata con grande successo. Ora il cinema ne onora il genio.